Ciao, oggi voglio parlarti di questo. Non so se hai fatto caso ad alcune particolarità di te, del tuo carattere, del tuo modo di essere, quelli che normalmente possiamo definire tra virgolette difetti. Ebbene, nei tuoi difetti, che io preferisco chiamare caratteristiche, c'è nascosto in realtà un grande dono, un grande dono molto molto prezioso. Tieni conto che quelli che tu chiami difetti, nascondono delle doti, delle risorse che tu puoi arrivare a manifestare nel momento in cui arrivi a trasformare questi difetti nella loro vibrazione più alta. Ossia, quando tu ti soffermi a pensare ad alcune di queste caratteristiche, no? Possiamo fare ad esempio, un esempio pratico, la rabbia. Ecco, diciamo che se tu hai la tendenza ad arrabbiarti abbastanza facilmente, cosa nasconde quella rabbia? La sua vibrazione più alta è la grinta, la determinazione, la passione, il fatto di essere a pieno in una situazione, di sentirla completamente e di avere l'impeto per portare avanti magari un progetto. E così tutte le altre caratteristiche che magari tu normalmente chiami difetti. Ad esempio, l'essere molto puntiglioso. Questo potrebbe diventare precisione, vedere che cosa non va per poter arrivare ad un livello di qualità molto elevata. Così come tutti gli altri, tutti gli altri, se ci fai attenzione, nascondono delle vere e proprie risorse. La cosa meravigliosa è che comunque queste parti di te sono un grandissimo spunto di crescita, in quanto quando tu ti permetti di arrivare alla vibrazione più alta di tale caratteristiche, tu arrivi a sperimentare qualcosa. Queste caratteristiche, quando vengono esaltate nel loro valore più alto, ti portano a vivere una cosa magnifica, un senso di completezza. Perché tu non sei te stesso senza quei difetti. Tu sei te stesso con tutte le tue caratteristiche traslate dalla paura all'amore. Ad esempio, la rabbia è la stessa caratteristica della grinta, semplicemente che la tua rabbia è connessa alla paura, mentre la grinta è connessa all'amore, alla passione di portare avanti qualcosa che senti dentro di te. Quindi se tu a queste caratteristiche, aggiungi l'amore, vedrai che ti aiuteranno a vivere te stesso ad un altro livello. Quindi quello che ti suggerisco è nel momento in cui tu noti o sei connesso, si manifestano alcune di questi difetti, sempre tra virgolette, nella tua vita, li stai sperimentando, chiediti sempre se aggiungo l'amore a questa mia particolarità, in che cosa lo trasformo? Bene, man mano che ti permetti di fare questa trasformazione, prima a livello mentale e poi verrà integrata in te, pian piano, facendo attenzione, osservandoti, attuando proprio, facendo scelte diverse e anche utilizzando queste risorse come risorse, non più come delle caratteristiche che magari ti portano verso qualcosa che non vorresti realizzare, come magari uno scontro, un conflitto con qualcun altro, ma piuttosto a portare avanti qualcosa di positivo, allora lì ti renderai conto che stai aggiungendo dei tasselli per raggiungere maggiormente la tua completezza e questo ti aiuterà a sentirti più felice, più gioioso e anche più te stesso. Bene, allora ti mando un bellissimo saluto, ti auguro una serata veramente bella, luminosa e consapevole e ti auguro di trovare tutti questi bellissimi tasselli che sono nascosti apparentemente dietro dei difetti che finora non ti sono mai andati a genio. Ti abbraccio forte, buonissima serata e a presto!